Nella cantina di un palazzone tutti i gattini senza padrone organizzarono una riunione per precisare la situazione Loro chiedevano a tutti i bambini che sono amici di tutti i gattini un pasto al giorno e all'occasione poter dormire sulle poltrone Loro chiedevano a tutti i gattini un pasto al giorno e all'occasione